Nicola Molteni, che cosa avete chiesto in aula per i frontalieri? Abbiamo chiesto che il Governo tuteli i diritti dei lavoratori frontalieri. I lavoratori frontalieri sono persone oneste, rappresentano una ricchezza, una risorsa per il nostro territorio e vanno tutelati e difesi. In modo particolare abbiamo chiesto al Governo garanzie e certezze con riferimento al fondo di disoccupazione. 270 milioni di euro, soldi dei lavoratori frontalieri che derivano dalle trattenute sulle buste paga dei lavoratori frontalieri che oggi non si sa che fine abbiano fatto. Questi sono soldi dei frontalieri e pretendiamo che questi soldi rimangano al fine esclusivo dei lavoratori frontalieri per pagare la disoccupazione. Abbiamo il timore, ed è per questo che abbiamo sollecitato e invitato il Governo a dare delle risposte certe e chiare, abbiamo il timore che questi soldi vengano sottratti dalla disponibilità dei lavoratori frontalieri e si eserciti una vergognosa rapina di Stato a danno dei nostri lavoratori. Pretendiamo chiarezza, pretendiamo certezze, pretendiamo che questi soldi vengano mantenuti ad appannaggio dei lavoratori frontalieri. Se così non sarà, la risposta dei territori del Nord e la risposta della Lega sarà durissima.